Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo. L'orologio che andremo a recensire oggi è il Bulova A15 Pilot, un orologio che viene da lontano. Le sue radici affondano infatti nell'anno domini 1944, quando venne realizzato per equipaggiare le truppe americane impegnate nella seconda guerra mondiale. Non vide mai la guerra vera e propria, fece in tempo a raggiungere alcune truppe di addestramento e la sua carriera terminò lì. Il suo scopo era quello di consentire ai piloti e agli operatori radar di poter calcolare semplicemente un dato lasso di tempo a partire da un evento. Il sistema utilizzato era all'avanguardia per quei tempi, in quanto utilizzava due ghiere interne girevoli. In questo modo potevano concentrarsi sulle altre operazioni di routine senza tenere di conto e sapendo di poter tenere sotto controllo il tempo trascorso a colpo d'occhio, senza dover segnare il tempo su un tacquino e poi ogni volta fare i calcoli per sapere quanto tempo era passato. Oggi Bulova ne riprende il design riproponendo gli stilemi e modernizzandolo al passo con i tempi. L'intento di riportare alla luce quegli stilemi propri degli orologi militari ma in veste moderna diciamo. Occorre dire che prima di questa mia versione, di questo orologio di cui sono in possesso, ne venne realizzata un'altra limitata con calibro Eterna, ovviamente ad un prezzo maggiore rispetto a questo. Ma bando le ciance. Prima di girare la camera vi voglio mostrare l'orologio del giorno che è questo bellissimo Oris Bill Crown Mare Nostrum, un quadrante azzurro spettacolare, cassa in bronzo che ha già preso il suo colore brunito, cinturino artigianale realizzato da John Coolstraps che trovo adatto all'aspetto globale dell'orologio e un orologio che indosso con piacere e molto più frequentemente di quanto mi potessi mai aspettare all'inizio. Sì, lo sto indossando con piacere. Adesso guardiamo la recensione, io vi aspetto qua per le conclusioni finali. Iniziamo con le misure. Diametro cassa 42 mm, spessore 13.5 mm, lag to lag 50 mm e pansoansa da 20 mm. Proporzioni importanti al passo con i tempi e distanti dai 32 mm dell'originale che oggi sarebbero sicuramente anacronistici e fuori mercato. Ciò che si può notare guardandolo lateralmente è questa specie di sandwich che ci restituisce il design. Troviamo infatti tre stati che, a livello di finiture, si alternano. Lunetta lucida, caro satinata e fondello lucido. Non risulta particolarmente attraente in quanto si è badato più al sodo, più alla funzionalità che a raccordare gentilmente le varie componenti. Da sottolineare che la lunetta è sì visibile lateralmente, ma che guardando l'orologio dall'alto è praticamente assente, lasciando campo al quadrante sormontato da un vetro zaffero con trattamento antiriflesso. Allo stesso modo le anse viste di lato si presentano ben alte e presenti, mentre dall'alto sono strette e filanti. Torniamo al vetro. Ho personalmente testato il trasparente perché qualcuno ha avanzato dubbi sulla veridicità della sua struttura e posso confermare che si tratta di zaffero antigraffio. Come detto, il fondello è lucidato a specchio, senza particolari lavorazioni. Nella mia testa, un pilot moderno sarebbe stato interessante con una qualche incisione in rilievo, magari su fondo sabbiato. Mi rendo però conto che per emulare il suo antenato deve rispettarne la sobrietà e l'essenzialità. Di certo non andavano sui campi di battaglia, beandosi della decorazione del proprio orologio. Total più ci si poteva trovare il numero di assegnazione al reparto. Da notare che è fissato con quattro viti e che l'impermeabilità è di soli 30 metri, 3 atmosfere. Ritengo che il limite strutturale sia dato dalle tre corone e che quindi un fondello a vite sarebbe stato inutile. Le tre corone a pressione sono infatti l'elemento che caratterizza l'aspetto dell'orologio. Solitamente questo design è prerogativa dei cronografi, ma qui non si tratta di pulsanti ed hanno un altro scopo che vedremo poi in seguito. Il calibro incassato è un miota della serie 8000, più precisamente l'8-2S6. Quando vedete una S nella sigla di un calibro miota significa che è stato decorato maggiormente per essere incassato negli orologi scheletrati o open heart. Non è ovviamente questo il caso in quanto si tratta di un orologio senza vista interna. Probabilmente è stato scelto per le sue specifiche particolari, ossia l'assenza del disco data e la presenza di carica manuale opzionale e fermo dei secondi a corona estratta. Quando infatti si estrae la corona non troviamo lo scatto per la regolazione data e a fine corsa si ferma la sfera dei secondi, tutto come ci si aspetterebbe. Non mi rimane che segnalare lo scarto giornaliero che ho misurato, meno 4 secondi al giorno. Devo dire un ottimo risultato tenendo presente che quando per 24 ore non è stato indossato è andato fuori media. Fino a quel momento lo scarto era di più un secondo, eccezionale. Consiglio quindi di rilevare le misurazioni tenendo sempre al polso l'orologio e con molla carica oltre all'80%. D'altronde gli orologi sono stati pensati per essere indossati ed è lì che si vede la reale accuratezza di un calibro. Ovviamente i movimenti di maggior pregio non subiscono questo tipo di variazioni in funzione della posizione o della temperatura, vengono regolati meglio. Un'ulteriore misurazione che ho fatto riguarda la riserva di carica. Un amico del canale aveva avanzato una lamentela su questo parametro ma io ho constatato 44 ore di riserva, ben maggiore delle 42 dichiarate. L'ho posato alle 16.50 del giorno 0 e l'ho trovato fermo alle 14.50 del giorno 2. Passiamo al quadrante, l'elemento più particolare dell'intero orologio. Troviamo infatti ben due ghiere interne girevoli comandate dalle corone ad ore 2 ed ore 4. Quella più esterna presenta la scala dei minuti e può essere utilizzata per monitorare un dato evento. Basta portare il triangolino in corrispondenza della sfera minuti e da quel momento si potranno leggere i minuti trascorsi dall'inizio. Allo stesso modo accade con la ghiera più interna dedicata alle ore. Si porta il triangolo in corrispondenza della sfera ore e da quel momento si potranno leggere le ore trascorse dall'inizio dell'evento stesso. Un'altra funzione utile può essere quella del secondo fuso orario. In questo caso basta portare non il triangolino ma l'orario del secondo fuso in corrispondenza della sfera ore. Da quel momento sarà possibile leggere l'orario locale e quello del secondo fuso su scala 12. Al di là della interessante funzionalità di questo quadrante è anche l'aspetto ad essere piacevole. Qualcuno avancerà alla lamentela del quadrante troppo affollato, ma signori questo non è un orologio elegante o uno sportivo, è un orologio di estrazione militare e in quanto tale hanno ragione di esistere tutte queste particolarità. Dall'interno verso l'esterno troviamo numeri gialli in stile post meridian che doppiano i numeri arabi da 1 a 12, scala dei secondi a chemin de fer, scala delle ore girevoli e scala dei secondi girevoli. Il tutto mantenendo una elevata capacità di lettura. Va da sé che i 42 mm di diametro cassa risultano assolutamente necessari per non ingolfare il quadrante. Da sottolineare la mancanza della data che rende il tutto più armonioso. La tridimensionalità che si riceve al primo sguardo è dovuta alle due gire interne che sono posizionate e inclinate su due piani rialzati rispetto al quadrante, una sorta di effetto anfiteatro piacevole a vedersi. Il risultato che si ottiene in assenza di luce è positivo, sia i numeri arabi che le sfere ci restituiscono una luminescenza più che sufficiente. Gli altri accenti non lo sono, ma se si fossero illuminati anche i numeri esterni il risultato sarebbe stato caotico e avrebbe vanificato la funzionalità delle due ghiere mobili. Non resta che parlare del cinturino, un'altra sorpresa. Pur essendo esplicitamente china made, raramente si vedono cinturini di serie ben fatti come questo. In vera pelle è morbidissimo, anche la colorazione la trovo azzeccata e si tratta di uno di quei pochi casi nei quali non sento la necessità di ricorrere ad un cinturino aftermarket. Se devo essere sincero l'unico punto dolente è la sua lunghezza oltremodo spropositata. Sul mio polso da 19 cm di circonferenza la fibbia avanza ancora a un notevole spezzone. Non oso immaginare come possa risultare a coloro che hanno una circonferenza inferiore. Da un certo punto di vista è meglio così che troppo corto, ma era un dettaglio che mi sentivo di far notare. Possiamo tornare in presa diretta per le conclusioni finali. Ho preso questo orologio non per farlo entrare nella mia raccolta di orologi, nella mia collezione, ma per testarlo e devo dire che probabilmente è uno dei migliori Bulova che io abbia mai recensito fino ad oggi assieme al Bulova Clipper. Il prezzo di listino è di 500 euro circa, ma si trova sui più famosi marketplace a circa 400 euro, che comincia a essere già un prezzo adeguato alla qualità dell'orologio. Per questa cifra si porta a casa un orologio di marca, come si diceva una volta e che porta con sé un minimo di tradizione e di storia. Da sottolineare la caratteristica delle due ghiere interne, unico orologio a presentarle in questa fascia di prezzo. Qualcuno dice che Bulova dovrebbe incassare i calibri della serie 9000 piuttosto che quelli della serie 8000 e sono d'accordo con voi in linea generale, ma come abbiamo visto, come abbiamo potuto notare con la collezione Bulova Sinatra, il prezzo si va poi a posizionare molto più in alto. La collezione Bulova Sinatra presenta sia un orologio con il calibro 8000 che con il calibro 9000 e la differenza di prezzo è notevole. Ne vale la pena? Secondo me no, quando ci si trova di fronte a un orologio con il calibro della serie 8, che però funziona perfettamente come questo, che tiene il tempo, che fa il suo dovere e il prezzo risulta più basso, secondo me questa è la scelta giusta. Soprattutto se il calibro 8000 è uno di quelli che sono stati aggiornati con il fermo macchina e la carica manuale. A questo punto non vedo perché si dovrebbe pagare di più per avere sempre un calibro miota della serie per O9000. Insomma dai, accontentiamoci a un certo punto. Cosa mi è piaciuto di meno? le dimensioni. Non avendo una lunetta a mitigare la superficie del quadrante, i 42 mm si fanno vedere tutti. A discolpa di ciò possiamo dire che però sono anche necessari e che in questa tipologia di orologio un pilot sono nella norma se non addirittura piccolo. Devono essere così grandi, ben visibili, via. Mi sembra di aver detto tutto e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, che vi sia piaciuta questa recensione e che vi sia piaciuto o meno l'orologio. Quello non dipende da me, tanto l'ha fatto a bulova, mica io. Vi ricordo gli appuntamenti fissi che sono come sempre ogni mercoledì ed ogni domenica alle ore 20 qua su youtube. Love! Ciao!